Le mura medievali trasformate in un ripostiglio della droga dagli spacciatori pronti a offrire un catalogo completo di stupefacenti, dalla cocaina alla marijuana. 5 kg di marijuana, 700 g di ketamina, un'altra quantità di hashish, dosi di cocaina e eroina, tutto nascosto nelle nicchie ricavate lungo il camminamento e nel bastione di Porta Leone, a servizio di una villa da tempo disabitata dopo la morte del proprietario. Tre persone arrestate, altre tre denunciate nel nuovo blitz antidroga dei carabinieri in pieno centro storico a Prato. La perquisizione condotta nella villa, negli annessi del giardino del bastione, lungo i 200 metri di mura antiche di pertinenza della proprietà, nei cunicoli e in quelle che la storia ha restituito come riserve di munizioni, ha confermato i sospetti. L'antico camminamento di Ronda, delle mura cittadine, l'avevano adibito a luogo di nascondiglio di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. Abbiamo rinvenuto ieri, grazie anche ai carabinieri di Prato, ma al battaglione toscana, tutte le tipologie di sostanze stupefacenti sul mercato, la cocaina, la ketamina, l'ashish, la marijuana. Da lì, tramite i monopattini che avevano in uso, riuscivano ad arrivare in centro e a spacciare al minuto gli acquirenti. Tra gli arrestati, anche un pregiudicato già finito in manetti una settimana fa e tornato in libertà, subito dopo la convalida dell'arresto. L'avevamo già arrestato con 500 grammi di marijuana pochi giorni fa, aveva il dirietto di dimora nel comune di Prato, però era ancora qua e faceva la stessa attività. Il sequestro dell'ingente quantitativo di droga, valore di mercato diverse centinaia di migliaia di euro, arriva a pochi giorni dal blitz che ha consentito di recuperare 6 kg di ketamina. Il blitz di ieri mattina, non il primo nella zona, ha portato anche alla denuncia di una donna italiana e di un nordafricano per non aver rispettato il divieto di dimora a Prato e di un altro nordafricano per furto di energia, avendo collegato il contatore della villa all'illuminazione pubblica. Trovati e sequestrati anche attrezzi edili rubati nei cantieri del centro città.